Signori buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. Prima di cominciare una piccola comunicazione di servizio. L'ho già detto nello speciale della settimana scorsa, lo ripeto anche qua per chi se lo fosse perso. La settimana prossima sarò ai Luca Comics. Se riesco vi faccio anche un video con gli acquisti ma non prometto nulla perché non so esattamente quando torno. Però se qualcuno di voi ci andasse e volessimo organizzare qualcosa, un ritrovo, siete pochi però dato che a Luca ci vanno tutti, anche se magari ci incontriamo per la strada, fare qualche parola e conoscere di persona la gente che guarda i miei video a me farebbe piacere. Quindi se siete intenzionati ad andarci e vi piacerebbe incontrarci, fatemelo sapere nei commenti oppure scrivetemi sul profilo Facebook e gestirò la cosa da lì. A fine della comunicazione di servizio torniamo alle cose serie. Lo speciale ha scombinato un po' la programmazione del canale, quindi sono passate praticamente tre settimane nell'ultima arte del masteraggio in cui abbiamo parlato della fallacia di Oberoni. Per chi si fosse perso il video andatevelo a recuperare, vi metterò il link. Andremo avanti da lì, quindi alcune cose potrebbero non essere comprensibili se non avete visto il video di prima. Comunque oggi, finito il discorso sulla fallacia di Oberoni, andremo a parlare del secondo corollario della regola zero, che è molto meno conosciuto anche il primo corollario, ma non è meno importante, la fallacia di Emericol. Prima di cominciare vediamo di inquadrare bene il periodo storico, perché è importante. Quando nel 2002, Oberoni espresse per la prima volta la fallacia di Oberoni sullo storico forum della Wizard of the Coast, non è vista neanche più, erano neanche due anni che la terza edizione di D&D era uscita. La terza edizione, anche se non è stato il primo gioco di ruolo ad avere un set di regole ridotto ma molto chiaro e specifico, è stato il gioco che ha sdoganato questo tipo di concezione del manuale e anche ha aumentato la base di giocatori esponenzialmente in tutto il mondo. Prima di allora i giochi di ruolo erano proprio concepiti diversamente, le regole non erano né compatte né chiare, anzi, le regole continuavano ad aumentare e praticamente non erano mai coerenti con se stesse né coerenti l'una con l'altra. Considerate che la prima edizione di D&D è del 74, sono passati fino al 2026 anni, in cui sia i master dei giocatori erano abituati che fosse dovuto da parte del master mettere le mani alle regole per rendere il gioco coerente. Il concetto che le regole dovevano essere valide di per se stesse senza dover essere ritoccate di volta in volta era una cosa che sui forum suscitava ancora grandi dibattiti e flame, perché da quando esiste internet esistono i flame. Il tempo però continuava a passare e quindi una nuova generazione, anche molto più ingrossa, si impose sulla generazione precedente. Una generazione di giocatori però che avevano cominciato a giocare con la terza edizione o con tutti gli altri giochi di ruolo che erano usciti con lo stesso concept nella scia della terza edizione. Giocatori quindi che davano per scontato che le regole dovevano essere valide di per se stesse e che se qualcosa nelle regole non funzionava o sbilanciava il gioco, sarebbe stato cura della casa produttrice a far uscire su internet errata corrige, modifiche, espansioni in modo da tenere il sistema sempre costantemente valido. In pratica il pensiero dominante era quella che se qualcosa nelle regole non andasse sarebbe stata la casa produttrice o comunque il rivenditore a occuparsene personalmente per far tornare il sistema valido. Si è arrivati così alla situazione attuale. Io personalmente negli ultimi 5-6 anni ho visto aumentare sempre di più il numero di giocatori che fondamentalmente sostengono che il sistema di regole è valido qualunque sia il gioco, che soprattutto le regole debbano sempre essere applicate esattamente nel modo in cui sono state progettate dagli sviluppatori del gioco e che qualsiasi discostamento dal gioco come è stato concepito in origine è da considerarsi un abuso da parte del master e quindi fondamentalmente un approccio sbagliato. La fallacia di Overoni però è rimasta in circolazione, anche se col corso degli anni la nuova generazione di giocatori ha cominciato a reinterpretarla. Dopotutto faceva riferimento a una condizione che questa generazione di giocatori non aveva mai affrontato personalmente, non avendo mai avuto a che fare con il caos dell'advance. Per questi giocatori il significato originale di il fatto che una regola possa essere corretta non vuol dire che non sia malscritta, si è andato piano piano trasformando in se una regola può essere soggetta a un'interpretazione allora è malscritta. Ovviamente questo non è vero e a la sua volta è un'altra fallaccia che fu espressa per la prima volta nel 2014 dal master Emery Cole che era un blogger della blogsfera del gioco di ruolo, era anch'egli un assiduo frequentatore del forum della wizard come i loberoni e espresse la fallaccia dandogli il suo nome. Questo è il post originale che fece sul suo blog. Purtroppo non è più attivo da qualche anno, ha anche cercato di contattarlo ma non ha mai risposto. Comunque vi riporto poi anche al testo in descrizione. Per chi non fosse bravo con l'inglese fondamentalmente quello che Emery Cole dice è che uno dei vantaggi di giocare un gioco di ruolo è che ha a che fare con un umano che può prendere decisioni al di là delle capacità di un computer attuale. Questa capacità di giudizio permette ai giocatori una grande flessibilità. Possono fondamentalmente provare qualsiasi cosa. Al master si richiede di applicare una difficoltà adeguata e permettere il tiro. Il valore scelto può cambiare da master a master ma questo non è un male. Ogni master ha il compito di rappresentare il mondo della sua campagna fin tanto che è coerente nelle sue scelte sia con i pg che con i png tutto va bene. E io personalmente non potrei essere più d'accordo di come lo sono già con lui. Ritengo che cercare di utilizzare sempre le regole così come sono state scritte, cioè rispettando la forma ma non la sostanza delle regole, sia follia e non riguardi assolutamente la narrazione di storie che in realtà è il motivo per cui si gioca di ruolo. L'applicazione delle regole esattamente così come sono state scritte è un ragionamento che funziona per i wargame, non per i giochi di ruolo. Personalmente ho anche visto situazioni in cui a voler interpretare le regole così come sono state scritte si finisce in situazioni che vanno dal ridicolmente paradossale al semplicemente ingestibile. Però non voglio far durare questo video ancora di più di quello che sta durando quindi penso che il prossimo video della serie che uscirà sarà qualcosa di un attimo più leggero ma che dimostrerà in pieno il punto che voglio discutere. Per questo video invece è tutto, mi piacerebbe sapere qual è il vostro approccio perché so che su youtube e anche su facebook l'età media è più bassa della mia quindi mi piacerebbe soprattutto sapere l'opinione delle generazioni che è venuta dopo la mia cioè quelli che hanno effettivamente iniziato a giocare con la 3 o la 3.5 di DnD o con i giochi che sono usciti dopo il 2000 fondamentalmente perché magari sono dei preconcetti miei che sono ancora troppo attaccato alle idee precedenti anche se posso assicurarvi che conosco gente anche più vecchia di me che tende a interpretare le regole solo come sono scritte non come sono state pensate non in maniera narrativa e persone molto più giovani di me invece che non prendono neanche in considerazione questo approccio. Fatemi sapere come ne pensate voi e naturalmente fatemi sapere o nei commenti o su facebook se ci incontreremo a Lucca o meno. Io sono il Master Kae, se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale e noi ci vediamo al prossimo video.